a questo è il simbolo di piovo anche robin il simbolo sì il simbolo no quella dopo questa è quella prima chi aveva il camboy con pokemon rosso mi sono rotta a chiederlo cioè sempre quella chiedo non ce l'aveva nessuno c'è l'infanzia rovinata che avete a uno voi ce l'avevate pokemon rosso e avevamo già vecchie e vabbò scusa il destino ce l'aveva l'avvio è un'altra l'avvio è un'altra grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.